Ciao a tutti, sono Marco Porcu e siamo qui oggi per presentare il microfono DPA4011 che ho recentemente acquistato. Ne avevo sempre sentito parlare da professionisti di altissimo livello che lavorano sia in studio che quindi anche musicisti, ma ne ho sempre sentito parlare così bene in termini così propositivi che sono stato addirittura convinto di comprarlo così, ho occhi chiusi. E' la prima volta che faccio una cosa così e devo dire che non ha affatto deluso le mie aspettative perché le prime registrazioni che ho provato a fare sono rimasto sconcertato dalla sua qualità di suono perché le caratteristiche di questo microfono includono la sua linearità quindi lui rimanda indietro esattamente il suono così come lo sentite ed era una cosa che da anni io andavo cercando in un microfono e non ero mai riuscito a trovare, ho fatto registrazioni con microfoni di qualsiasi tipo a livelli altissimi, microfoni che sicuramente conoscete molto bene anche voi, di altre marche che sono molto usati anche negli studi di registrazione. non ha nessun tipo di rumore al contrario appunto degli altri suddetti microfoni che spesso quando si registra raccolgono tendono a raccogliere più che altro il rumore oltre al suono mentre invece questo sembra che abbia una sorta di filtro naturale che fa risaltare soltanto il contenuto del suono dello strumento e questa per me è una qualità impagabile oltre alla espansione di suono alla risposta dinamica quindi consiglio a tutti questo microfono per me questo microfono che oltretutto si può utilizzare sia live che in studio è al top in assoluto per me, per me il DPA 4011 sulla chitarra è il microfono ciao a tutti 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 ciao a tutti